Che cos'è lo stato senza mente? Cosa si prova nello stato senza mente? È difficile spiegarlo alle persone, però ho trovato questo video molto simpatico che può darti un modo per far capire alle persone che cos'è. Te lo faccio vedere proprio perché ad alcune persone succede proprio quello che succede a queste persone e quindi dacci uno sguardo, potrebbe essere un sistema per farti capire meglio, per comprendere quello che gli altri non possono comprendere. Ecco, ora tecnicamente il tuo dispositivo è inizialmente. Sì? 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 tu puoi? Sì? 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 Oh, no, 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 no. Hi, baby. Sounds good. I know I look like an elderly munchkin, but do I sound like one then? Oh my god, I can hear myself It's good, it's okay Blue Orange Red Black Purple Purple What do you think? What is it like? So different to you Hi mom Does it sound clear or does it sound muffled? I don't know what to do 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 Grazie per la visione!